Al via la venticinquesima edizione della Fabbrica di Carta, il Salone del Libro, degli autori ed editori del VCO, al Centro Culturale La Fabbrica di Villa Dossola, fino al primo maggio. Uno dei critici letterari più conosciuti e apprezzati in Italia, Piero Dorfles ha inaugurato questa edizione, dopo i saluti istituzionali delle autorità. In dialogo con la giornalista Manuela Borraccino, Dorfles ha condotto il pubblico in sala attraverso... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.